Claudia, ti prego, dimmi la verità. Di cosa è morto papà? Di niente Giulia. È morto di niente. Come nuvole esausta sulla spiaggia mi addormentai, non mi svegliai più, la vita mi agitò come un'onda, il segreto del mare fece suonare, non mi svegliai più, sarò sempre tuo padre, sarò sempre tuo padre. La morte non è nulla. Tutto resta come era. Ciò che eravamo l'uno per l'altra lo siamo ancora. Continua a chiamarmi con il mio nome, continuo a parlarmi con la tua dolcezza. Giulia sta cercando di contentarla. Lo so. È lei l'ostacolo. Papà? Caro maestro, ho scoperto la via di cui tanto vi ho parlato. Allora, non mi ricordi più niente. Di cosa? Di come stai, che ti succede. Sei tu che non mi dici quello che stai? Perché dici questo? Così, è la mia impressione. Ma tranquillo, ti voglio bene lo stesso. Mi occorre una guida perché i primi passi abbiano la corretta direzione. Distinguere tra il vero e il falso sembra impossibile. Mi occorre una guida perché i primi passi abbiano la corretta direzione. , io e i primi passi abbiano la corretta direzione. Un lontore segaya così. Io assessor.